A Civitana del Tronto il prossimo 23 dicembre si svolgerà il terzo trail della Speranza, una iniziativa per portare cosa in questo borgo? Beh, innanzitutto con la cultura del festival porta alla riscoperta di questi territori. Oltre i problemi che ci sono stati, a maggior ragione da tutta Italia cerchiamo di portare partecipanti, corridori, camminatori, famiglie a rivitalizzare questi borghi ormai resi anche fantasma. Quindi questo è lo spirito del festival. Il festival si regge anche per l'energia di tutte queste persone che da tutta Italia, verranno dall'Abruzzo, dalla Campania, dal Piemonte, perché da tutta Italia sentono forte questo spirito di riappropriarsi del territorio e quindi il festival porta questa speranza. È un borgo bellissimo, sempre abbiamo questa energia dei corridori che partecipano perché non abbiamo fondi pubblici. Il festival va avanti con la polisportiva Antropo Sport che sostiene questa parte sportiva. Le amministrazioni ci aiutano. Assessore, come si svolgerà questo evento? Dunque, l'evento che si terrà il giorno 23 dicembre ci sarà l'accoglienza dei partecipanti in piazza Filippi Pepe, dove si ritireranno i pettorali e da lì il percorso si svolgerà lungo i sentieri, lungo le carrarecce, lungo la parte più naturale del borgo. A seguito della manifestazione tutti coloro che parteciperanno all'evento e alla corsa avranno la possibilità di poter visitare anche la fortezza. Questa è una cosa a cui noi teniamo maggiormente affinché coloro che con questi contesti noi riusciamo a portare a Civitella potranno anche avere la possibilità di visitare la fortezza che è il fiore all'occhiello di Civitella e sicuramente rimarranno contenti della visita e della manifestazione. Chi è invitato a partecipare in modo particolare? Sono invitati tutti quanti in maniera particolare naturalmente essendo una manifestazione podistica, runner, ma naturalmente anche per famiglie e bambini ci sarà una camminata aperta a tutti quindi si vedranno anche attraverso la camminata i bellissimi panorama che si vede passeggiando proprio le bellissime montagne che circondano Civitella e quindi questi bellissimi territori. Quindi l'invito è naturalmente per tutti, aperto a tutti e poi ecco come diceva l'assessore naturalmente alla fine della camminata potranno vedere la bellissima fortezza e dall'assù anche continuerà il panorama bellissimo di questa bellissima regione.